In queste due partite sono state due ottime partite nonostante la sconfitta con la Spagna che chiaramente giocata in dieci uomini diventava un po' più difficile però sono state due ottime partite, è chiaro che ci è dispiaciuto perderla la prima però stasera abbiamo fatto, oggi pomeriggio abbiamo fatto un'altra ottima gara i ragazzi sono stati bravi e poi c'è stato il positivo che abbiamo cambiato un po' di giocatori e nonostante questo la squadra ha giocato ugualmente bene Oggi abbiamo fatto giocare un ragazzo, chiaramente mancandoci Belotti e Ciro che comunque sono due giocatori che hanno esperienza, che hanno vinto l'Europeo che sanno giocare e conoscono tutto della squadra quindi è chiaro che ci siamo mancati in due partite così però abbiamo avuto la possibilità di provare diverse soluzioni alternative a loro oggi ha giocato Raspadori che secondo me è un ragazzo che avrà un grande futuro è chiaro che ha bisogno di tempo come tutti i giovani quindi un po' di tempo si vuole poi credo che sia importante che la squadra continui a giocare bene sempre poi al gol ci arriviamo in un modo o nell'altro una partita difficile come è stata l'Europeo, come è stata a Basilea quindi giochiamo in casa sarà importante veramente fare una grande partita perché chiaramente è la partita dell'anno dopo gli europei quella è la partita più importante quindi sappiamo che dovremo vincere e vedremo come andrà quando manca Giorginio dobbiamo avere delle alternative abbiamo Sensi che in questo momento è infortunato che potrebbe fare il vice Giorginio abbiamo Brian Cristante che lo fa potrebbe farlo tranquillamente abbiamo provato Locatelli che comunque ha le qualità per farlo perché oggi secondo me ha fatto una grande partita lui può fare sia all'interno che al play quindi sì è un'opzione in più che abbiamo a me Locatelli piace devo dire che a me piace come interno di centrocampo perché poi quando attacca sa far gol e sa anche dare l'assist e per noi era importante provarlo lì perché insomma ci saranno delle volte che magari non avremo Giorginio in futuro speriamo di averlo sempre però se non l'abbiamo perlomeno abbiamo un giocatore che il cui errore lo fa bene